Malgrado la tanto attesa riapertura dei confini nazionali e di alcune frontiere a partire dal 3 giugno, per gli italiani non sarà facile viaggiare quest'estate. Secondo il decreto riaperture ci si potrà muovere tra l'Italia e i paesi dell'Unione Europea senza essere sottoposti a quarantena e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, numeri importanti visto che Grecia, Francia e Spagna rappresentano le destinazioni preferite degli italiani in vacanza. Se però l'Italia aspetta i turisti stranieri a braccia aperte, questi potrebbero latitare per il timore delle notizie sull'epidemia di Covid. Secondo l'Istat la stagione fin qui è stata un disastro, fra marzo e maggio a causa dell'epidemia il paese ha perso oltre 9 miliardi di euro e ben 81 milioni di visitatori, un tracollo economico. La speranza degli albergatori è quella che i turisti italiani che si vedessero impedite le vacanze all'estero decidano di consacrare il proprio budget alle vacanze nel bel paese. La crisi però ha colpito duro e al di là delle difficoltà alle frontiere molti italiani quest'anno in vacanza non ci andranno proprio troppo occupati a cercare di limitare i danni economici.